Sono i nostri specialisti, questo avviene nell'ambito di una rete formativa che vede insieme l'università con quelle che poi sono le strutture della sanità pubblica e privata, quindi con gli ospedali, le strutture ospedaliere. Perciò è chiaro che questo rappresenta una leva fondamentale anche per favorire questa collaborazione e fare in modo che i giovani, gli specializzanti, ma pensiamo anche a tutto il personale del comparto e delle professioni sanitarie possono avere veramente degli strumenti di addestramento d'avanguardia che sono fondamentali per costruire le competenze.